carissimi amici del canale youtube dentro la notizia i leader mondiali non riposano mai sono sempre intenti a progettare danni e affanno per i popoli conoscere i loro piani e prendere le dovute precauzioni è una questione di vitale importanza da non sottovalutare quest'oggi ci baseremo sui fatti descritti in questo articolo mentre la popolazione è tenuta all'oscuro l'articolo titola 24 leader mondiali annunciano un trattato internazionale sulla pandemia per attuare l'agenda del grande reset i firmatari includono il capo dell'organizzazione mondiale della sanità nonché i leader di francia germania regno unito e altri paesi una serie di leader mondiali ha lanciato un appello per un trattato sulla pandemia globale presumibilmente al fine di prevenire future pandemie distribuire vaccinazioni e attuare un approccio unilaterale alla governance globale il primo ministro britannico boris johnson il presidente francese emmanuel macron il cancelliere tedesco angela merkel il capo dell'organizzazione mondiale della sanità nonché altri 20 leader mondiali hanno unito le forze per scrivere una lettera congiunta con l'apparente intenzione di ottenere il sostegno popolare per il piano globalista scrivendo sul giornale britannico the telegraph così come su altre pubblicazioni come le monde in francia i leader hanno dichiarato la loro intenzione di costruire un'architettura sanitaria internazionale più solida che proteggerà le generazioni future definendo il covid 19 la più grande sfida per la comunità globale dagli anni 40 del secolo scorso i 24 leader hanno predetto che ci saranno altre pandemie e altre importanti emergenze sanitarie nessun governo o agenda multilaterale può affrontare da solo questa minaccia hanno dichiarato la domanda non è se ma quando insieme dobbiamo essere meglio preparati per prevedere prevenire rilevare valutare e rispondere efficacemente alle pandemie in modo altamente coordinato la pandemia di covid 19 è stata un duro e doloroso promemoria che nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro questa frase finale potrebbe indicare l'influenza di cui gode il fondatore del world economic forum il globalista claus schwab sui 24 leader solo poche settimane fa schwab ha dichiarato finché non tutti saranno vaccinati nessuno sarà al sicuro i leader hanno riaffermato il loro obiettivo comune di vaccinazione globale descrivendolo come bene pubblico al fine di raggiungere quel bene pubblico e garantire una rapida diffusione dei vaccini in tutto il mondo i 24 globalisti hanno avviato il loro nuovo trattato internazionale questo trattato si baserebbe sui principi dell'oms attingendo alla costituzione dell'oms il direttore generale dell'oms il dottor tedros adanom ghebre jesus è stato uno dei firmatari della dichiarazione l'obiettivo principale di questo trattato sarebbe quello di promuovere un approccio a tutto il governo e a tutta la società rafforzando le capacità nazionali regionali e globali e la resilienza a future pandemie hanno dichiarato i leader con un linguaggio che ricorda l'agenda del great reset promossa dal world economic forum e da klaus schwab i leader hanno affermato un trattato dovrebbe portare a una più reciproca responsabilità e responsabilità condivisa trasparenza e cooperazione all'interno del sistema internazionale e con le sue regole enorme la proposta dovrebbe essere ulteriormente discussa tra i leader nazionali al vertice del g7 di giugno in cornovaglia nel regno unito dove boris johnson si unirà ai suoi omologhi provenienti da canada francia germania italia giappone stati uniti e unione europea nel frattempo i 24 firmatari hanno avvertito che il loro nuovo piano richiederà tempo e richiederà un impegno politico finanziario e sociale sostenuto per molti anni il trattato pianificato sembra allinearsi molto strettamente con gli obiettivi del great reset di klaus schwab la promozione del reset da parte del world economic forum utilizza persino una terminologia corrispondente descrivendo leader che si trovano a un bibio storico per schwab il disagio sociale causato dal virus rappresenta una finestra di opportunità unica per plasmare la ripresa in effetti il legame tra il nuovo trattato internazionale e il grande reset ha indotto il presentatore veterano richie allen a scrivere questo è terrificante per molti anni ho presentato scrittori ricercatori e accademici che ci hanno avvertito che questo sarebbe accaduto questa è la fine del gioco un simile trattato riguardava semplicemente concentrare il potere nelle mani di una piccola elite ha spiegato allen e ciò per cui globalisti stanno lavorando da decenni si conclude così l'articolo lasciandoci lo spazio per qualche riflessione sì è un piano progettato da decenni ed è strano notare tutta questa accelerazione se ci pensate bene quanti cambiamenti quante privazioni dei diritti umani abbiamo dovuto subire nello spazio di pochi mesi a livello mondiale non era mai accaduta una cosa simile e quello che ci raccontano quello che vogliono che noi crediamo è una pandemia senza fine che si protrarrà per generazioni così dicono invece come dice allen è la fine del gioco di una cosa possiamo essere certi la cupola che domina il mondo corre così veloce perché vuole raggiungere il suo obiettivo il più presto possibile come se gli mancasse la terra sotto i piedi sanno di avere i giorni contati e questa è la buona notizia ma qual è il loro obiettivo solamente le nostre proprietà tramite un grande reset finanziario progettato dall'elite del world economic forum di davos no c'è di più la riduzione della popolazione mondiale no c'è di più il loro vero obiettivo a cui lavorano da tempo in memore è il controllo totale della persona controllo non solo fisico ma anche mentale sapendo questo agiamo per preservare le nostre facoltà mentali prossimamente vedremo come prima di concludere volevo ringraziare gli amici della bife international una delle innumerevoli piccole e medie aziende del made in italy di successo che consiglia prendac 2 il primo integratore che associa in un'unica soluzione quattro vitamine fondamentali vitamina d3 a k2 e vitamina c queste vitamine insieme contribuiscono al corretto funzionamento del sistema immunitario e all'attivazione del ciclo del calcio che è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare la bife quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo approfondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarsi tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video potete iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella e condividere i video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin grazie a tutti